Musica Musica Sul sul amici bentornati nel mio canale, io sono Adalai e oggi ho una buona notizia e una un po' meno buona, almeno per me, poi magari a voi non è che interessi tanto, però... Allora, partiamo dalle brutte notizie La famiglia Watson pensava di averla recuperata ma niente da fare, purtroppo era proprio pagata e non c'è stato niente da fare per recuperarla quindi ho dovuto dire addio a... proprio a malincuore Alana, William e Family avevano avuto quattro figli, due gemellini e poi un bimbo e una bimba e avrei tanto voluto poter giocare ancora con loro e farle vedere pure a voi ci sarebbero due puntate che non avete visto però onestamente mi sembra inutile mettere online due episodi che comunque non hanno nessun senso visto che in ogni caso per causa di forza maggiore dovrebbe interrompersi Passiamo alla notizia buona L'altro gioco free perché comunque un gioco free io ne ho bisogno quindi siamo in un nuovo mondo che io ho rimodificato tutto completamente come già potete un po' vedere che i lotti non sono quelli di base ma sono diversi ho cambiato tutti, tutti gli appartamenti ho cambiato le famiglie, ho eliminato le vecchie, quelle standard e le ho sostituite con famiglie un po' fatte da me e un po' scaricato dalla galleria i lotti sono praticamente tutti scaricati dalla galleria non ne ho fatto nemmeno uno quindi mi tolgo subito il merito ragazzi e niente quindi andiamo avanti non saranno più i Watson a tenerci in compagnia d'ora in poi saranno i Lush i Lush che vivono a San Maishuno esattamente nel quartiere dell'alta moda in questo appartamento qua non ho scritto una grande descrizione di loro in realtà quindi ve li descrivo io loro sono fratelli fratello e sorella il fratello è un adolescente Kieran Lush lui come aspirazione è autore di best seller vuole scrivere libri e diventare un autore famoso come tratto conseguenziale a riflessivo quindi sembra riflessivi e migliorano maggiormente le loro abilità quando sono ispirati poi è pessimista ed è un sim sicuro quindi tende ad essere comunque anche se è pessimista ha uno sicuro di sé e lui è Kieran Lush l'altro protagonista è Eleanor la sorella maggiore Eleanor è invece una romantica il suo sogno è trovare l'anima gemella il Sim vuole trovare la persona giusta e vivere in modo gratificante in sua compagnia è allegra buona ed è amante della famiglia allora vorrei spiegarvi brevemente anche la loro storia praticamente loro vengono da Rindleton Bay i genitori purtroppo sono venuti a mancare sono rimaste solamente loro due quindi la sorella che è una giovane adulta e il fratello che è piccolo adolescente Eleanor e Kieran hanno deciso di ricominciare una vita la stare nella casa di famiglia era per loro troppo doloroso e quindi hanno deciso di trasferirsi a San Maishuno per ricominciare da capo e rifarsi una vita lui va a scuola ovviamente va al liceo anche se non è un grande studioso ha poca voglia di studiare non gli piace molto mentre lei invece ha comunque reritato la clinica veterinaria di famiglia quindi direi di andarle a conoscere intanto e non so andiamo da Eleanor che è la clinica veterinaria ci vediamo tra poco ragazzi ok ragazzi eccoci qua siamo arrivati alla clinica veterinaria che è situata a Brindleton Bay comunque quindi lei me la immagino un po' pendolare che va un po' in giù tra la città e il paese per raggiungere il lavoro lei comunque le piace fare la veterinaria perché lei ama gli animali che a proposito non vi ho presentato il terzo membro della famiglia terzo membro della famiglia chiamiamolo qua dai e portiamo qui anche lui così ve li faccio vedere tutti il terzo membro della famiglia è Reina questa bella cagnolina è adorabile ragazzi è meravigliosa guardatela 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 che musino è fantastica è fantastica e ovviamente qui abbiamo una stella perché dobbiamo ancora aprire però intanto vorrei che lei facesse amicizia con la piccolina perché l'ho appena trasferiti quindi ovviamente ovviamente può fare animali di Instagram mentre parla con e socializza con con Eleanor può fare una foto lui tra l'altro mi ero dimenticato di dirlo oltre ad avere la passione per le foto scusatemi per la scrittura ha anche la passione delle foto quindi lui ama fotografare e quindi penserei di farlo campare con quello tra l'altro ho fatto un errore a casa hanno 100.000 Samoleon ma perché io ho sbagliato gli avevo dato il soldi giusto per farli prendere la clinica solo che è successo poi la clinica l'ho cambiata e i 100.000 però mi ero dimenticata che già la clinica di per sé aveva un valore quindi gli ho aggiunto insomma vabbè ha fatto un casino hanno 100.000 euro per errore vedete ora glieli toglierò provvederò a toglierli abbracciala ha guadagnato 23 follower e animale di Instagram di nuovo così intanto lui alza anche la e poi oh sono dolcissimi gli mettiamo anche un filtro no questo camisole arancione dai questo un po' color seppia ok Reina ha iniziato a ratterrare l'attenzione come stella emergente di Instagram la prodotti per animali pensa a zampitivo e ha fatto avere un piccolo omaggio in segno di ringraziamento per le sue immagini straordinarie controlla l'elementario della sua unità familiare e continua così benissimo direi che lei adesso potrebbe indossare una divisora vetrinario mentre lui fa amicizia con lei e noi apriamo allora questo non l'ho fatta io e l'ho scaricata e mi piace molto quindi impostazioni chirurgiche ma va bene tanto facciamo un serio rilassante a livello industriale non l'ho fatta io perché onestamente non avevo molta voglia di di costruire l'ottio non avevo tutta questa questa simpatia nell'idea di farlo ecco quindi quindi niente l'ho preso già fatto per risparmiare tempo lui tra l'altro Kiran al momento nessuno di due conosce qualcuno oh questo è un esempio fatto scaricato comunque Nico Ward chi è sta male oh no sta male il suo animale eccolo piccolo piccolino ora ti cura subito mi dispiace che la nostra Eleanor ancora non ha questa grande esperienza allora aspettiamo che si registri e salutiamo il paziente calorosamente non posso perché lei veramente è appena creata quindi ha l'abilità zero dai vai prendiamoci cura di questo cagnolone Casper piccolo Casper andiamo a vedere cos'hai dai saliamo sali 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 ok calmiamolo subito calma sei preoccupato non preoccuparti lo farò stare meglio quindi iniziamo a fargli l'esame misuriamo la temperatura perché lui comunque avrà qualcosa del ghiacciato o cose del genere ascoltiamo il cuore dobbiamo ormai questo lo sapete mi dispiace di là perché con Alana era arrivata addirittura alle operazioni era arrivata a livello 8 di veterinaria e mi tocca ricominciare da capo però d'altronde cosa possiamo fare che cos'hai tu spezzine di pelle e pelo e calmiamo di nuovo l'animale intanto capiamo cosa ha lui forse ha anche fame non ho comprato nessuna pallina ragazzi prendo una pallina per lui anzi intanto riempie riempie riempi tutto facciamole riempire le ciotole solo che io non volevo abbandonare troppo Elinor perché esame esaminiamo gli occhi vediamo se lo vede il dolcetto sì direi che lo vede ok abbiamo la nostra diagnosi febbre calmiamolo di nuovo e poi gli facciamo la terapia dolcetto di tutto a posto tutto a posto anzi perché non è tutto a posto è tutto a posto chiamiamo Reina per mangiare e poi prendiamo c'è solo una pallina mi dispiace prendere l'unica pallina sai cosa faccio io con lui intanto? potrebbe esercitarsi a scrivere scrivo libro di genere comico perché no? la cosa qui è un po' lenta però se faccio veloce morire da ridere è un libro comico ok dai dolcetto è tutto a posto e torni normale eccolo Casper e abbiamo raggiunto anche il livello 2 perfetto possiamo chiamarlo animale buono e poi congediamo il paziente c'era qualcun altro se non erro sì lui è un padre single con tre bimbe saluta il paziente e occupiamoci anche di lui tu stai scrivendo sì e occupiamoci di bb seguici bb seguici che adesso ci occupiamo di te allora direi che vado avanti un po' da sola almeno voi nel frattempo cioè non vi annoio tutto il giorno e poi ci rivediamo insomma quando siamo a casa e possiamo fare anche qualcosa di nuovo di diverso che ditevi? facciamo così vai allora ci vediamo più tardi appena le stacca dal lavoro nel pomeriggio allora ragazzi siamo di nuovo qui siamo a casa lei si è già messa in versione casa quando sta in solitudine nelle mura domestiche lei si veste molto comoda con questo enorme maglione però mi piace veramente tanto e gli occhiali lei non è molto per uscire non è una grande non impazzisce per insomma per fare vita notturna mentre il fratello si che adesso è a giocare però alla con l'xbox adesso però lui con lui usciamo a proposito devo vedere una cosa ecco adotta come bisognoso di cure e stabiliamo il coprifuoco per le 23 quindi lui adesso lo mandiamo via mentre lei si potrebbe guardare un bel film romantico innamorarsi da sola se lo guarda ho sbagliato innamorarsi ok e lui potrebbe uscire ok ragazzi praticamente ho fatto un club rebel l'avevo aggiunto qualche adolescente più che altro perché mi sembrava veramente triste che lo andasse a giro da solo allora siamo venuti a star my show dove? nel karaoke quindi vediamo non l'ho ancora visto nemmeno io questo gioco questo lotto qui c'è uno stereo cabina del dj un carino l'arcade mi piaceva questo perché mi sembrava molto non so boh mi sembrava molto underground ecco mi sembrava molto simpatico e quindi ho deciso di mettere questo ok direi che aspettiamo che arrivi il nostro club ovviamente sono tutti simmi adolescenti nel frattempo tu no sto per dirmi un sms ma non so bene dove a che fasi è vero uno di loro magari lo manda a sua sorella per dirle guarda mi fai fare un po' più tardi che qui è già eccoli iniziano ad arrivare impara a conoscere lei 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 ragazzi mi piace un sacco è veramente carina anche se gli ho fatto dentro a castorino però mi piacciono perché i difetti alla fine gli rendono gli rendono reali no nessuno è perfetto nella realtà per cui mi piace un sacco di queste piccole imperfezioni e mi piacerebbe che lui iniziassi a socializzare cos'hai? dai stai bene tutto sommato perché sei furente? ha uno sbalzo di rumore perfetto e anche lei in realtà è molto carina l'indiana e lui secondo me si potrebbe anche prendere una cotta per una di loro non so bene ancora con chi però con lei condividiamo le foto dai vuoi essere perfido lui puntere e farle diventare il migliore amico anche se adesso è incavolato nero chiacchierate un po' dai calma si ti prego oh guarda che c'è qua canta in duetto ballata pop cantiamo un pop cantiamo oh si dai con lei basta chiacchierare andiamo a cantare ci hanno rubato il posto mi da l'idea esatto no guardate questo è Sheldon Cooper non l'ho fatto io eh è meraviglioso Sheldon Cooper The Big Bang Theory non mi veniva la parola perdono ok qui ci hanno rubato il posto se no andiamo di sopra canta in duetto pop vai canta su e questa è la famiglia vittoriana ragazzi insomma qui non c'è verso il coprifuoco sta a preiniziare ancora non abbiamo fatto niente mi sa che lui se ne fregherà e non tornerà a casa in orario dai iniziate a cantare ce la facciamo? ascoltiamo la la dote canora di questi due? lui no lei forse perché non ricordo se aveva l'abilità del canto lui no l'avevo detto cantatetti prego anche lei si chiama no non è brava nemmeno lei Eileen direi che non sono bravi nessuno dei due ragazzi ecco si mettiti a cantare pure te ragazzi oddio oh mio dio oh mio dio mi si stanno spaccando le orecchie in due vi giuro ragazzi aiuto avete finito? grazie a dio sia lodato il signore allora prendetevi una bevanda di gruppo non me la posso fare ordino una bevanda nelle bevande di gruppo si c'è il tristo veramente benissimo facciamo che potrebbero prendere no 618 simoleone ragazzi non esageriamo cola alla crema succo di malta una birra e che costicchia sta birra eh non è proprio economico maestra no mmm dai un dolce spezz... un succo con ghiaccio dai ma il tristo cosa ci fa qui? no raga qui c'è veramente il oddio lui vuole farsi un po' grosso quindi mentre sulla carriera perchè lui come lavoro il pregettore della sorella fa lavorano un bar come eliminatore di macchie di caffè però non vuole dirlo a lei perchè le scoccia no? dirgli che lui lavorano un bar vorrebbe dirgli no no guarda io non lo so sono un uomo fantastico ho tanti soldi magari vuole apparire un po' più di quello che ha e lui è così preso a parlare con lei e stare con gli amici che non si accorge che sono che è mezzanotte e mezza e sua sorella lo starebbe aspettando a casa ma non voglio lo spintone vuoi litigare? ok dai seguiamo il tuo istinto litiga non so con chi farti litigare però no non voglio litighi con lui perchè voglio sia amico con chi potrei farlo litigare vabbè lui è infuriato se la prende col barista mmm che eh oddio Enric vuoi darti fuoco? no c'è anche lui no c'è anche lui Dustin Locker L'Ocler rimprovera spramente parla del club ribb dai su litighiamo visto vuoi litigare e poi ce ne andiamo a casa insulta il viso vuole insultare il viso ok ok insultiamo il viso stiamo litigando si ora cosa vorresti fare? fai fuoco e fiamme con qualcuno c'è fai fuoco e fiamme? no proviamo a fare provoca fai fuoco e fiamme perchè devi litigare con questo povero cristo? non ti ho fatto niente bene va anche giù l'empatia ovviamente fai una forza in fuoriata sul tapirulan non la farai però torneremo a casa e terminiamo il roduno che è tardi per tutti voi che siete adolescenti tutti a casa ci sarà una barahonda di genitori arrabbiatissimi ok eccoci qua lui è appena rientrato lei lo sta aspettando sta giocando al computer mentre lo aspetta e ora però si arrabbierà perchè sono le 3.20 è veramente tardi per lui quindi lei comunque ne ha la responsabilità svisceralo incoraggia chi non crede allora intanto severa urla contro perchè la vedo comunque insomma non ha questa esperienza lei i genitori li fanno quindi sta in rabbia siamo soli lo sai è difficile anche per me e tu non mi aiuti perchè fai come ti pare proviamo a incoraggiare a canalizzare a dirgli di a incoraggiarlo di canalizzare la sua rabbia vediamo se funziona vediamo se funziona cerca di calmare che l'ho veramente infuriato potevo andare a letto perchè ragazzi non mi sembra non mi sembra che abbia funzionato svisceralo lo sbalzo rumore tu come stai? stai tutto sommato bene allora facciamo una cosa tu vai a dormire che sono le cinque le quattro dormi e tu potresti fare una cosa portare lui a fare una passeggiata accarezzalo da lei e la portiamo a fare una passeggiata basta chiacchierare lui deve andare a dormire su è tardi però probabilmente ha dormito perchè ha la barra del sonno quasi piena dai che ti porto spasso e mentre lei e manzi mentre Keras dorme direi di mettere le luci automatiche lei decide di andare a spasso con lui anche se è tardi insomma sono quattro e mezzo però tanto non non è che abbia sotto questo video sociale lei non è molto mondana e anche se è tardi è mattiniera per cui non le pisa andare a quest'ora parla con per lei la piccola Reina è la sua migliore amica beh continuate la passeggenza compro un letto per animali? no perchè non c'entra in casa chiacchiera con Kieran va bene compro una postazione chirurgica per la verità di vedere non c'è? allora si ma stiamo stessi qui ok ci muoviamo ragazzi ci muoviamo chiedo scusa ma qui mi porta su un automatico chissà se incontriamo anche qualcuno ma non non mi sembra Starbucks questa è una sim che ho messo è una anche lei vive con la sorella potremmo presentarci potremmo presentarci presenta Reina cos'è presenta Reina? sono curiosa vado veloce ragazzi un attimo perchè voglio vedere questa interazione ecco magari potrebbe perchè no potrebbe anche diventare un po' una sua amica visto che anche lei ancora non ha amicizie chiedete la soggiornata no insulta perchè voi volete insultare tutti chiedete la carriera è un genio ordinate allegra Ermia ma questo è Howard si è Howard Wolowitz sempre di Big Bang Theory fantastico oh qua c'è uno dei simmi del quartiere tra l'altro non è male ciao tesoro non ricordo come ti chiami Bobby ah e qui c'è il ragi va no bel carino lui molto potresti presentarti già che ci siamo fa una presentazione divertente oddio vai a scuola subito vai a scuola subito anzi deve andare al lavoro svegliati presentiamoci che qui non fa male no guardate aspetta voglio farvi vedere Rajesh l'hanno fatto veramente uguale a lui e Raji chi segue la serie di Big Bang Theory cioè non può non notare la semiglianza ah 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 wadida snubara imparala a conoscere dai e poi avrebbe fame perché non andare allo Starbucks ci potremmo andare con Reina e magari possiamo andare con con un'Ermia dai così facciamo un po' amicizie ok siamo qui in questo bar con la nostra amica abbiamo fatto colazione ragazzi qui c'è una luce fallo un complimento sincero potrebbero fare una conversazione profonda voglio assolutamente che stringa amicizie con qualcuno e poi le racconta una storia incredibile le sta raccontando della sua vita insomma di come è arrivata a San Maishuno lei non viva a San Maishuno invece vive oddio non ricordo sia Willow Creek non me lo ricordo ragazzi chiedo scusa poi io non mi sto arrendendo all'idea di non poter avere la mia bevanda da asporto ma mi so che mi devo arrendere è la mia canina che ha fatto la pipì qui ok fai una ramanzina sui bisogni dentro si e Reina ragazzi siete incantati? dai ok sei ripresa direi che è arrivato il momento di andare a casa però e Kiran intanto a scuola stringe amicizie ciao gente ok ragazzi siamo tornati a casa stiamo facendo un bagno a Reina perché è sporca e quindi ci gustiamo questa bella animazione che adoro quando fanno i bagni agli animaletti Kiran è tornato da scuola sì perfetto scusate un attimo ok adesso Reina è bella pulita lui come sta? sonno e ha bisogno di andare a dormire una doccia quindi direi che se va a fare una doccia lui magari se fa un bagno così almeno si dà una calmata tu chiamarei non mangiare sono le 15 e 34 in realtà è anche presto ah voglio comprare una macchinetta per il caffè come cosa sei benvenuto chi ci dà il benvenuto? Sheldon e Howard invita vicini a entrare e lei sarebbe la penne della sensazione non si metterà con Leonard sappiatelo ti avrei detto invita i vicini a entrare invita i vicini a entrare invita i vicini a entrare ti prego dai fallo cortesemente tu vai a dormire che sei stanco morto tu dormi ok abbiamo invitato i vicini a entrare in realtà lei è la nostra vicina è carinissima ed è arrabbiata chissà perché abbiamo The Big Bang Theory al completo ragazzi questo è Leonard all studded ringrazio per la presenza saluto al nuovo vicino saluto al nuovo vicino saluto al nuovo vicino ragazzi la casa è un po' piccola non ci entriamo tutti quanti molto bene oh che carini Sheldon e Leonard si abbracciano non sarebbe proprio da Sheldon che è un sociopatico di quelli saluto al nuovo vicino per favore svegliati Eleanor certo in camera da lui dove lui giustamente sta dormendo ringrazio per la presenza poi andiamo a salutare anche loro loro come lavoro ovviamente fanno tutti gli scienziati sfogliamo anche l'animale la casa è veramente piccola ragazzi è perché si presentano loro due sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare ciao Rajesh raccontano a barzelle trevoltante ringraziamolo per la presenza abbiamo delle star ragazzi a casa quindi dobbiamo trattarlo trattarli bene anche se questa casa è veramente mignone si vedete chiacchiera qui secondo me è sufficiente per quest'oggi la nostra puntata potremmo chiudere con l'arrivo dei nostri vip di Big Bang Theory e poi vedersi la prossima volta questo era più un episodio introduttivo tanto per farvi conoscere un po' la nuova serie il nuovo protagonista della nuova serie visto che purtroppo le Watson ahimè sono andati perduti e la cosa mi dispiace veramente tanto perché ero molto affezionata da Lana e tutta la famiglia però vabbè dai ci affezioneremo mi auguro anche a Eleanor e Kieran e ci vediamo la prossima sicuramente se ne verrà un po' di più ora era proprio l'inizio, la base ragazzi quindi mi rendo conto che magari era più noioso però se il video vi fosse piaciuto lasciate un like un commento se vi va che mi fa sempre molto piacere vi invito anche come al solito a iscrivervi al canale per essere aggiornati e ogni volta che pubblico qualcosa sarete aggiornati ricordo che ho anche altre due serie nel canale la sfida dell'eredità con la famiglia Montreschi e la miniserie che è più una storyline quella che si intitola The Family Sims quindi se vi va di seguirmi mi auguro che possa intrattenervi nel migliore dei modi io vi auguro una buona giornata e una buona serata e ci vediamo la prossima volta SUPSUL iscriviti al canale